di questa meravigliosa manifestazione. Un grazie al Presidente Vecchietti e gli altri amici di Rios che hanno organizzato questa manifestazione ma un grazie particolare va a Michele Castellano al quale io personalmente rivolgerò da solo da solo, non me ne vogliate, un applauso poi dopo capirete perché, da qui a qualche momento. Un vecchio proverbio dice se vuoi correre veloce vai da solo se vuoi andare lontano corri insieme agli altri qual è il messaggio che i livelli questa sera vogliono affidare agli olivicultori? Lavorare insieme lavorare insieme per ridurre le diseconomie di azienda per mettere insieme le energie vitali dei comuni che sono la forza motrice che sono la forza fra i nanti dei territori e soprattutto far comprendere che stando insieme si lavora meglio e si raggiungono molti più obiettivi.